Musica Questa è la storia di un regalo, partiamo da un rvm Buonasera Maria, eccoci arrivati a Circello Un piccolo paese della provincia di Benevento Siamo qui per consegnare la posta al signor Andiamo a cercarlo Un piccolo paese della provincia di Benevento Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non bastasse parlerò con Dio e avrai le gambe mie per camminare e la mia voce se vorrai gridare. E la mia mano spingerà la tua nei lunghi giorni di malinconia e se vorrai piangere ti abbraccerò e se vorrai ridere io riderò. Non dirmi niente passerà uno sguardo ti giuro amore sopra questo foglio. Grazie a tutti. Di quante volte tu mi hai fatto male di quei due non ranchiusi in un silenzio. Ma solo adesso ne comprendo il senso è stata sempre la mia roccia. Mi fa paura non vederti. Papà, sei ancora forte se ci credi ancora. Papà, nel tuo futuro non aver paura. E la mia mano spingerà la tua nei lunghi giorni di malinconia e se vorrai frangere ti abbraccerò. Se vorrai ridere io riderò. Non dirmi niente passerà un quarto. Ti giuro amore sopra questo foglio. Na, 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 na. Mi fa paura vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento è solo mio. Te lo vedo bene. Te lo dicono i miei figli.